Scontro interno al PD per il presunto accordo con l'Udc in vista delle regionali, ma anche botta e risposta tra Callipo e Trematerra. Le dichiarazioni del sindaco di Pizzo non sono andate giù all'assessore regionale d'agricoltura, chiamato in causa, oltre che per l'appartenenza allo scudo crociato, per l'indagine dell'antimafia che lo riguarda. Gianluca Callipo, che ora mi coinvolge in una polemica stucchevole per via di un'indagine giudiziaria in contrasto con la mia storia politica e professionale, è lo stesso che venerdì sera, due giorni prima delle primarie del centrosinistra, mi ha telefonato per invitarmi a supportarlo in una sfida da cui è uscito sonoramente battuto. Risponde così Trematerra, ricacciando la patata bollente del trasversalismo nelle mani del giovane Renziano. Accusa che Callipo rispedisce a sua volta il mittente, rincarando la dose. È vero che ho telefonato a Trematerra, ma per dirgli di astenersi insieme al suo partito dal voto alle primarie, visto che le voci di esponenti dell'Udc che stavano facendo campagna elettorale non certo per me, si facevano sempre più insistenti. Un quadro che ripropone le solite logiche, accuse incrociate, illazioni, soprattutto su fatti che difficilmente possono essere verificati. Il giudizio passa all'opinione pubblica che in questi casi si divide per appartenenza partitica, mentre una grossa fetta, quella degli astenuti in costante crescita, si gira dall'altra parte, catalogando la diatriba nella casella Solite storie di politica calabrese. Grazie a tutti.